E' iniziata la presidenza di turno portoghese del Consiglio dell'Unione Europea, una presidenza molto ambiziosa anche perché arriva dopo quella tedesca che è riuscita a raggiungere degli accordi fondamentali come quelli sul Next Generation EU e sul bilancio pluriennale dell'Unione, ma anche sul meccanismo per il rispetto dello Stato di diritto. La presidenza portoghese si concentrerà su una serie di temi altrettanto importanti. Da un lato l'avvio della conferenza sul futuro dell'Europa, che era un impegno anche della presidenza tedesca che non è riuscita a raggiungere. Riuscire a far partire il treno della conferenza che dovrebbe mettere a punto un grande piano di riforma dell'Unione Europea è certamente fondamentale anche per accompagnare il Next Generation EU con un grande dibattito tra i cittadini europei. Dall'altro il tema dell'Europa sociale. Il governo di sinistra del Portogallo ha messo al centro della sua gente anche il rafforzamento del pilastro sociale europeo. Uno degli aspetti di cui i cittadini europei tengono di più anche nel quadro della risposta europea alla pandemia, dove si sono fatti passi avanti come sure, così come rispetto al tema dell'unione della sanità. Perché la pandemia ha messo in mostra quanto sarebbe importante avere maggiori competenze e maggiori poteri in questo campo da parte dell'Unione Europea per riuscire ad avere delle risposte maggiormente coordinate, per riuscire anche a sfruttare al meglio le competenze dei vari paesi, visto che alcuni sono riusciti a rispondere meglio di altri a questa sfida epocale.